e la sei? dicevo la cassa quella la no davvero te oh shit oh cavolo ma è ormai lì praticamente no non è lì però dai ma raga c'è il cabello no c'è il cabello no c'è il cabello no è il cabello dello shield ah non c'è non c'è io sono dell'elicottero raga ma perchè hanno cacciato il P90 vabbè comunque se mi prendeva il barretto la pistolinare perchè ero al posto ecco frata noi c'è io sono da voi io mi sto facendo legno che ne ho 800 di legno 800 vabbè diciamo che il minuto resterà solo questo perchè quando le armi leggendari non posso quindi ah io posso andarmi a prendere lo scar silenziato qua da ninja prossimo la pistola o il barretto o il lagerazzi c'è un po' di armi c'è un po' di armi tu fai no no non so due però belle si però non so due raga ma c'è un po' di armi ditelo sta sparando ai cose no ti ha distrutto no perchè la cap oh raga vediamo se hanno preso il cavallo si andiamo eh no raga c'è stata gente proviamo proviamo raga dove raga la seff è qua ci siamo in sé io mi trasformo per me vediamo vediamo se hanno preso mida ok ma mida c'è ancora raga cioè io non lo so più l'agenzia com'è eh cioè non lo so neanche io cosa ok ora l'ho visto è il barretto è il barretto possibile no perchè è il barretto ora è solo in stagnazione oddio oddio tutto raga tutto 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 oh i simbisi e infatti l'hanno preso raga caro eh l'hanno preso è un burai ci sta ci sta però qua c'è la miglia fra è epica ah c'è lì ora vedete qua barca è una socca è una socca è uno è uno ho lì ti ho fatto i pelin raga raga colpi barretto non ne ho fra colpi AR ne hai fra quando c'è 192 me ne puoi dare un pochino 58 il piedi con lì lo scaglionato vabbè te che mi serve perchè io c'è pi sto la miglia la miglia raga io puoi portare i cilini io 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 e viene che io porto la miglia pi sto la miglia no ma raga ho tutto tutto di tutto colpi mitra raga veloci 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 si lo sei no ne ho io colpi mitra dopo te ridotta ok ok che ho la miglia ne ho 126 colpi prendiamo la barca no 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 non mi sei ok raga prima siamo dobbiamo andare tutti con i tuoi piccoli a a francesco ti ha la miglia distruggiamo quanto io l'ho pregato il lavoro scildone raga io poi a francesco dove ho andato ok io non mi sei allora raga andiamo nella prossima safe venita perchè ho sparato vabbè ero comune di avere l'elicottero però dai raga lì c'è gente sotto il ponte andiamo che facciamo prendiamo la iglese no no prendiamoci la iglese vai scendete raga scendete che se non è possibile oh che cazzo la la raga li distruggiamo non lo so ma perchè si sparano no forse si sparano già da lago raga ah da dietro raga da dietro raga aiuto vedi 3 scena vedi 3 scena vedi 3 scena vedi 3 scena ecco 3 scena 3 scena no mi dispi siamo attendo a razza siamo attendo a razza oddio 29 29 blu oh raga dobbiamo pushare questi io a forza come li pushiamo fra? ah il barret raga non mettetevi nessuno su perché io li faccio 26 bianco raga pushiamo 26 26 bianco si li dobbiamo pushare raga raga io li faccio un giro largo è morto è morto ma erano contro 36 bianco 36 bianco e tutti morti dai no raga sono scarsi anche sono scarsi anche dai ci facciamo adesso non abbiamo fatto vita no 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 io no 30 30 30 37 bianco ok bravi si l'ho distrutto buona buona si si non c'è la raga non c'è la raga no no ok kill 9 kill grande fra cura 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 no no cura tu che devo votare a forza non lo ammazza non lo ammazza non lo ammazza capito ok allora copi un attimo si si tranquilla k epica lanciarazzi buono sono le lucidini oh raga raga chi vuoi portare le bende allora se raga se qualcuno vuoi portare 15 bende io porto anche lanciarazzi però non ho cure ve lo dico allora io ho uno spazio per le bende per le cure ok si siamo non ho lasciato uno ucidini piglia sono 15 oh raga è mazzo per forza però non ti fregare tutto sai non abbiamo niente noi ok raga io ho tutto colpi i razzi raga colpi i razzi raga ma qua ci sono ucidini lascia la pioggina si lascia no dai 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 tu raga 3v1 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 posso fare il no scoop ho solo 3 kg tranquillo non lo voglio fare il no scoop raga ti prego ti prego lasciatemi raga ci vuole provare ok si ho una giambo e sei così che ti fanno i gommoni ma dove sono? dove è questo? dov'è? non lo so ma tu le ha lanciato il razzo chi le ha lanciato il razzo? che ne so raga raga ma io ma che cazzo raga raga dove sta? ma che cazzo raga raga chi ha sparato? raga ma c'è oh ora ho sparato io per vedere se l'ho bloccata ma raga raga ma c'hanno sparato il razzo ma chi l'ha sparato? raga una shieldone vedo qua ma faccio io ma lo 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 faccio io chi è? altra gesto assalto blu altri gommoni raga chi me li può portare? e li porto io che c'ho spagli ok perfetto perfetto oh ma raga no no te lo facciamo devo portarli con me il francesco ok raga grazie se non lo fate fare raga cercate di aiutarmi a vederlo raga ma dov'è? ma queste cose che vuole non sembra tutta gend ma io? questa cosa mi sta facendo preoccupare dov'è ma? no no se no raga se in quel cespuglio giuro che me mi cazzo l'ho lasciato fra no l'ho lasciato la geragica come l'ho lasciato? ok siamo 3 v 1 non dovemmo perdere che? ho capito ma questo si incamperi poi ci distrugge visto? si spara eccolo qui l'ho visto? vi trovo l'albero raga no è il nabbo spaccate l'albero si ce lo fa si ce lo fa vai aspetta no no raga fermi è il nabbo ah è il nabbo quindi qui dentro qua l'ho visto? ok raga vado a farlo vado a farlo vado a farlo prenda blu nonnago io l'ho si dentro vado a farlo vado a farlo e'LEVAD AAAAAAAAH Grazie.